buongiorno a tutti amici grazie per essere qua se mi state visitando perché vi è piaciuta la prima puntata del calenda libro su well tv un loroscopo del libro dei ragazzi dove ho parlato di sepulveda e della gabbianella del gatto che le insegnò a volare oggi vorrei farne lo spin off e parlarvi di un'altra favola di sepulveda che merita tantissimo di essere letta in particolare storia del gatto e del topo che diventò suo amico il mondo dei felini è il mondo di sepulveda infatti la chicca finale di questo racconto che è un mini libro è che sepulveda ci confida che un giorno un un veggente un indovino gli confidò di essere stato un gatto in un'altra vita in particolare di essere stato il gatto di un mandarino ecco perché traspare così bene la passione che ha per il mondo dei felini per il loro mistero il gatto è un grande alchimista ed è un saggio che ci aiuta la storia è veramente bella tenera lirica sorprendente come sepulveda ci faccia entrare nel vivo dei nostri amici del mondo dei nostri amici animali e soprattutto dei gatti in questo caso è un trio di protagonisti dal nome dal nome simile max mix e max chi è max che mix max è massimo siamo a monaco siamo sempre nel nord dove sono ambientati i racconti quasi tutti i racconti di sepulveda e max e massimo è il padroncino di mix tra amici ci si aiuta e si nasce un legame che non è un legame padrone gatto è proprio un legame di amicizia e questo traspare proprio dalla dalla novella perché il gatto parla del suo amico padrone come di un amico con cui ha un legame a tu per tu e mix gli lascia sempre i croccantini nella ciotola sin da quando era era bambino e lui era il gatto del del bambino quando però il bambino cresce e diventa ragazzo e poi diventa giovane si troverà un lavoro e porterà con sé il gatto in una nuova città a questo punto la loro amicizia non viene meno ma il gatto inizia a sentirsi ovviamente solo quindi il ritmo della giornata di un gatto sarà scandito dalla presenza dell'amico mix o dall'assenza passano gli anni e il il gatto inizia a sentire su di sé la fatica il peso degli anni fino a quando diventerà cieco cieco ancora non del tutto ma quasi totalmente e quindi non potrà più fare le sue grandi passeggiate sui tetti ma a questo punto accadrà un imprevisto mandato però dal destino un giorno sentirà che qualcuno sta frugando nella ciotolina dei croccantini e non sarà niente po po di meno che il topino il topino che lui chiamerà max è un topino veramente carino furbo la caratteristica del di questa amicizia sembra un po tome jerry perché il topo si distinguerà proprio per l'aspetto dell'intelligenza i due si alleeranno e faranno omicizia perché in questo modo gli occhi del del topo diventeranno gli occhi del gatto e sgomineranno anche l'attacco di un ladro grazie proprio all'astuzia della del topino che metterà paura al ladro quindi proteggeranno il comune amico mix che infatti avrà la premura quando scoprirà che il gatto ha fatto amicizia col topino il nuovo arrivato avrà la premura di lasciare del buonissimo formaggio dei buonissimi croccantini anche per il topino e non voglio spoilerare la fine è veramente commuovente la prosa lirica i dettagli con cui sepulveda ci parla del nostro dei nostri amici animali del mondo della natura e vi farà vi culleranno le parole vi culleranno vi faranno compagnia prima di dormire è un altro dei libri che non possono mancare nella nostra libreria perché poi fanno parte della trilogia di sepulveda non vi dico però qual è il prossimo allora vi saluto grazie a tutti voi da silvia alonso e ovviamente vi aspetto al calendalibro l'oroscopo dei libri mensili per ragazzi ciao